ciao dolcezze sono tornata voi non l'avete non l'avete visto la mia assenza non l'avete sentita perché in questi giorni sono andati online un po di video che avevo programmato ma sono tornata perché è una settimana che non carico che non registro che non carico non è vero che non registro video è una settimana che non registro video nuovi tra virgolette oggi sarà un video chiacchiere velocissimo brevissimo scusate le mie condizioni vabbè struccata come al solito ma con due tre maglie perché ho un freddo della madonna sto gelando sono ibernata mi sa che ho preso l'influenza non lo so ho delle fitte dappertutto in tutte le parti del corpo praticamente quindi vabbè sto male come un cane oggi ma volevo fare un breve video di comunicazioni allora io dal 5 di dicembre al 15 devo iniziare un lavoro non vi dico ancora niente vi dico solo che inizierò un lavoro a contratto a chiamata quindi durerà poco praticamente 10 giorni due settimane e poi vediamo se mi richiameranno di nuovo a gennaio o febbraio insomma prossimo anno 2025 oppure no incrociate le dita che mi chiamano un'altra volta ma iniziamo a dicembre quindi quando vedrete questo video sarà forse il 30 di novembre o il 29 il 28 non lo so quando lo caricherò comunque spero di caricarlo prima del 5 dicembre questo video a dicembre ci saranno tanti video sul natale video natalizi tag natalizio in pacchetto regali che ho registrato quest'anno e alcune anche l'anno scorso e li carico quest'anno i video di natale ok spero che vi piacciano i video che vedrete a dicembre saranno quasi tutti i natalizi poi a gennaio tornerò a fare le vostre richieste devo ancora comprare la rivista perché non sono uscita sono due settimane che sono chiusa in casa che sto male come un cane sto veramente malissimo di salute fisicamente psicologicamente mentalmente lo stress e l'ansia a palla come si dice e quindi io rito io rito ma c'è niente d'aida puliamo la tovaglia che ci sono un sacco di pericola volevo avvisarvi che se vedete i video non li ho registrati nuovi sono vecchi tra virgolette ovviamente non sono vecchi però non sono neanche registrati in diretta come questo qua ecco non vi cambierà niente perché voi credo che a voi basti vedere i miei video anche se non sono registrati in diretta va bene lo stesso credo che non ci siano problemi ma io sono coerente sono educata forse più che coerente educata e mi sembrava giusto avvisarvi che dieci giorni non ci sarò cioè non ci sarò ci sono però non sono a casa a far niente devo andare a lavorare devo iniziare un lavoro e quindi pregate che vada bene perché ho una paura fottuta si dice una paura pazzesca speriamo che vada bene incrociate le dita datemi un po' di in bocca al lupo un po' di fortuna un po' di coraggio un po' di grinta qualcosa un po' di positività portatemela tanti mi piace tanti commenti in bocca al lupo buona fortuna me lo dico da sola ma anche voi magari se volete è ben accetto sono ben accetti gli in bocca al lupo non so come si dice vabbè avete capito spero solo di star bene la prossima settimana che siamo già a dicembre perché io devo essere super in forma devo essere non dico bellissima ma pronta crentosa attiva e devo star bene in forma si soprattutto devo stare 8 ore in piedi quindi sarà dura devo svegliarmi alle 7 del mattino alle 6 e mezza 7 del mattino fino alle 8 dalle 8 alle 8 quindi è dura però vabbè speriamo di bene volevo avvisarvi che farò la promoter in un negozio in Piemonte quindi vabbè e non dico l'indirizzo non me ne frega niente non lo dico a nessuno l'indirizzo ai miei parenti e basta praticamente gli altri non lo dico il mio indirizzo non lo voglio dire a nessuno il luogo il paese non me ne frega niente inizio a lavorare punto basta a voi deve interessare solo quello e speriamo che vada bene volevo appunto avvisarvi che non registrerò nuovi video mi sa fino a gennaio non credo di registrare nuovi video vediamo come va il lavoro vediamo come va la mia salute soprattutto che la salute è fondamentale senza la salute non c'è niente quindi speriamo in bene spero di star bene più che altro perché non sono in forma per niente la febbre non ce l'ho se vi interessa la febbre non ce l'ho però non sto bene ogni cosa che mangio ho la nausea ogni cosa che che mangio dormo anche male di notte sono sempre accitata sempre pensierosa non va bene anche i video smr a volte non mi aiutano non va bene non va bene non va bene star così non va bene non so anche senza mangiare roba dolce comunque sto male lo stesso anche mangiare il pane asciutto per dire mi fa male quindi devo sicuramente fare altri test per la mia salute ecco insomma capire se sono magari intollerante al pane alla farina al glutine non lo so che sono geliaca non ho mai avuto niente adesso a 32 anni mi viene mi vengono tutte le malattie di sto mondo malattie tra virgolette però spero che voi stiate bene e basta se riuscirò registrerò qualche video tapping trigger ASMR fast richiesto da voi anche a dicembre prima di natale magari però comunque ho già programmato tanti video per tutto il mese di dicembre praticamente idee regalo video acquisti video tag natalizio video in pacchetto regali video role play mamma natale spoiler vi sto spoilerando tutto dicembre cosa vedrete su questo canale sereni di smr spero che vi piaceranno tutti i miei video ASMR da dicembre in poi e ci sentiamo ancora per gli auguri di natale sicuramente ci sentiremo ancora e quindi speriamo di star bene spero di star bene spero di star bene spero di star bene a natale vi farò poi gli auguri dal 15 in poi dal 20 in poi insomma prima di natale comunque ci sentiremo ancora e se non farò video richiesti adesso tra fine novembre inizio dicembre eccetera tutto il mese di dicembre i video che vedrete saranno natalizi praticamente quasi tutti se non tutti poi a gennaio ricomincerò con i soliti video tutto l'anno video tapping ASMR fast leggo libri eccetera eccetera ok quindi sfoglio la rivista lo farò mi sa a gennaio a sto punto mi dispiace farvi aspettare così tanto anche mi sa il fast ASMR lo farò a gennaio credo non lo so vediamo speriamo speriamo di riuscire spero di riuscire a far tutto quello che ho in testa perché ho la testa che scoppia mi fuma come i draghi fumo dalle orecchie perché ho tantissime cose a cui devo pensare che voglio fare che devo fare a parte youtube ho una vita da fare da portare avanti il prossimo anno anche avrò un sacco di cose da fare a parte fare i video per voi ovviamente su youtube però veramente avrò tantissime cose da fare e se troverò veramente un lavoro a parte farla promoter che praticamente devo invitare i clienti nel negozio dare volantini a uno all'altro all'altro insomma quello spiegare come funziona la spesa in go quindi la spesa col telecomandino come il penn del carforo all'esse lunga forse anche c'è quella specie di telecomandino io lo chiamo telecomando che non si chiama telecomando però vabbè avete capito quel robottino che voi cliccate su un prezzo e poi alla cassa con la tessera vi fa lo sconto magari è una cosa tutta complicata io devo farmi spiegare come funziona e poi spiegarlo io ai clienti che vengono nel negozio dove ci sono io a farla promoter insomma sarà un casino io non sono per niente tecnologica quindi ho paura di sbagliare vabbè ho 2000 ansie in breve quello un aggiornamento questo è un video di aggiornamento sarà pure buio sono completamente nera fuori c'è un pochino di sole ma proprio dietro le nuvole fa un freddo ragazzi io amo il freddo ma quando sto male voglio solo roba calda adesso mi faccio una tisana che sto veramente male 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 il saluto è un mal di pancia della madonna veramente la nausea ogni cosa che mangio non lo so perché voi spero che stiate bene ci vediamo ci sentiremo in un altro video prossimamente baci e abbracci ciao a tutti commentate